La finalità di comparare progetti europei e non solo europei, Rossella invece va a fondo sulla realtà italiana ed è uno strumento di autovalutazione, la struttura informativa e conoscitiva è la stessa, però è uno strumento di autovalutazione, è quasi uno strumento pedagogico, cioè bisogna aiutare chi vuole intraprendere Housing First a non fare gli errori di quei venti coraggiosi o di quelli che non hanno avuto coraggio. Quindi è uno strumento un po' pedagogico e ha, come potete vedere, delle dimensioni, 70 domande e una struttura dicotomica A4 molto semplice. È molto semplice. L'abbiamo sperimentato e testato a Verona, io ho chiesto ai progetti un po' più robusti di poterlo sperimentare e il risultato è questo. In particolare, non so se lo posso dire, ma il progetto che mi interessava molto, che lo ha sperimentato, se 100 è il massimo di dire 6 Housing First DOC, tanto per capirci, quel progetto arriva a 70. Io gli ho dato una misurazione, anche se non sarebbe un po' tanto corretto, ma in fase così di gioco quantitativo. Ma aiuta a cogliere anche tre subdimensioni sulle quali il punteggio è molto basso e su cui c'è da lavorare per migliorarsi. Hanno dei nomi, pianificazione e valutazione, separazione alloggio e trattamento. Tutto qui è soltanto un po' detto in coda. Bene, grazie Paolo. Grazie Paolo. Le realtà che hanno lavorato con il supporto di Paolo e del suo gruppo hanno avuto modo, come capite, di cogliere le dimensioni legate al contesto in cui hanno realizzato il progetto, che cosa all'interno delle stesse organizzazioni e del sistema di lavoro avviene, le persone accolte. Quindi è davvero un modo per centrare l'operatività dentro dei confini che possono poi dare elementi di miglioramento ben definiti. E ascoltiamo due realtà che hanno avviato la sperimentazione. Siamo in centro, Italia, con Bologna, Piazza Grande, Chiara che invito qua a raggiungerci, e Matteo Cosenza. Dicevamo che a chi ha avviato la sperimentazione vorremmo chiedere fondamentalmente due cose. Chi te l'ha fatto fare? Per dirla in maniera molto semplice e diretta. Davvero, soprattutto laddove ci sono molti interventi, e si può parlare davvero di un sistema integrato, multilivello di servizi alle persone senza demora, perché Housing First? E poi rispetto anche al lavoro fatto con l'accompagnamento dei gruppi di valutazione, in particolare con questo strumento, quale guadagno ha consentito al vostro lavoro poter avere anche questi elementi a supporto del vostro fare? Per gentilezza. Io ricorderei che lei è assolutamente un pezzo importante del mezzo. Quindi un applauso. Bologna, Bologna. Io rappresento in realtà i due progetti di Bologna, quello sui adulti, Housing First Cobo, e il progetto TAC Famiglia, appunto sui nuclei familiari. Perché abbiamo iniziato Bologna, appunto come, sapete, una città, Eremia Romagna, era tutta la regione, in cui sicuramente non mancavano servizi per e senza demora. E Piazza Grande stessa gestiva unità di strada, gestiva dormitori. Era in quell'ottica di lavoro, di un'accoglienza a gradini, per cui c'è una bassa soglia, un primo livello, un secondo livello di accoglienza, la preautonomia dei gruppi appartamenti e poi per qualcuno l'autonomia. Che mettiamo sempre, tra virgolette, la parola autonomia. Che cosa ci è piaciuto dell'House in First? Perché abbiamo deciso di, appunto, abbracciare questo modello. E perché, soprattutto per quella che possiamo chiamare la cultura, cioè il cambiamento di prospettiva. Non c'è più, appunto, una scala in cui solo chi, solo alcuni, solo pochi, riescono ad arrivare in cima, riescono ad arrivare, appunto, al traguardo dell'autonomia. Ma al centro mettiamo la persona. Mi ricordo quando Stenberg si è venuto a Bologna, appunto, ci diceva, si parla di Housing First, prima la casa. In realtà dovremmo dire al centro la persona. Ed è proprio così. Nell'Housing First la persona è al centro. E non è più un, visto come un bisogno, un problema. Ma viene accolta nella sua complessità e nella sua totalità. Soprattutto come portatore anche di risorse e di diritti, come il diritto di scelta e il diritto alla casa. Quindi questo ci piaceva e questo è passato a Bologna. È passato soprattutto per quello che riguarda gli adulti. Perché abbiamo iniziato con le famiglie, sarò molto sincera, un po' per caso. Perché abbiamo, con la nostra unità di strada, abbiamo incontrato delle famiglie in stazione. Delle famiglie nei parchi della nostra città. E una povertà a cui non eravamo abituati, con cui non avevamo mai lavorato in precedenza. Stavamo iniziando allora la sperimentazione con gli adulti, ci siamo detti perché non provare anche con le famiglie. Questo secondo progetto è quello in cui crediamo tanto, ma quello che ha anche più difficoltà, un po' per quello che diceva Paolo prima. Perché è una povertà forse ancora più nascosta, la povertà delle famiglie. Una zona un po' grigia. Però è anche un pochino più nuova, però sicuramente è un aspetto che anche le nostre amministrazioni, con cui adesso anche le nostre amministrazioni devono fare i conti. La differenza qual è? Che mentre per quello che sta, almeno per Bologna, investire sull'Housing First, oltre a questo cambiamento culturale, ha portato dei risultati perché persone per cui nessuno avrebbe scommesso che avrebbero potuto reggere in appartamento. E invece sono dentro e stanno facendo il loro percorso. E ha portato anche a una prospettiva di lungo periodo, quindi non più breve termine, ma lungo periodo, e una diminuzione di quello che era un fenomeno delle revolving doors, cioè le entrate e uscite che si ripetono dalle strutture, quindi la stessa persona che continua a strada, dormitorio, dormitorio, strada, strada, dormitorio, comunità di accoglienza, strada, dormitorio. Quindi ha cambiato, ha portato dei miglioramenti in questi aspetti. Per quello che riguarda invece le famiglie, cosa succede? E l'Housing First per le famiglie costa di più rispetto all'Housing First per i singoli adulti. Costa di più. La prospettiva dell'indeterminatezza del tempo fa molta paura alle amministrazioni, che sono quelle che mettono i finanziamenti. Per cui ancora oggi a Bologna, quindi la stessa Bologna che da un lato appunto ha sperimentato, ha abbracciato l'Housing First per gli adulti, per le famiglie preferisce la struttura. La struttura dove concentrare le famiglie. Mentre noi lavoriamo anche sugli appartamenti, però su Bologna non abbiamo più, ci è venuto a mancare appunto il pezzo dei finanziamenti. Quindi su Bologna noi stiamo continuando, non abbiamo il supporto dell'amministrazione comunale. L'abbiamo in provincia, quindi il nostro progetto si è diffuso comunque nella provincia di Bologna, in cui c'è una coprogettazione con alcuni comuni. Matteo. Salve a tutti, io sono Matteo e sono socio di una piccolissima cooperativa di Cosenza che si chiama Strade di Casa. Nel 2012 Strade di Casa ha implementato un servizio di unità di strada per persone senza dimora, proprio come Bologna più o meno. Un'unità di strada esclusivamente relazionale, non si portano pasti, non si portano coperte, si porta giusto un bicchiere di tè bollente per agganciare la persona in modo tale che non scappi, soprattutto dal primo aggancio, e si sviluppi la relazione con il tempo. A volte per sviluppare una relazione, sapete meglio di me, ci vogliono anni, a volte un anno, due anni, anche tre anni. Nel 2014 è nato il network Housing First Italia. Quale migliore illuminazione per provare a fare qualcosa per le persone che vivevano la strada nel nostro contesto urbano dell'Interland di Cosenza e Rende. Noi abbiamo fatto subito parte del network e abbiamo provato a coinvolgere gli enti pubblici. Purtroppo nella nostra realtà, ma come anche Bologna, non abbiamo potuto accedere a dei fondi pubblici. I comuni ci hanno fatto un grande in bocca al lupo, sono stati contenti dell'iniziativa, Forza e Coraggio, che dopo aprile viene maggio. E allora noi abbiamo cominciato a ragionare su come poter attuare dei percorsi di Housing First, ovvero una progettualità di questo tipo. Continuando a frequentare le persone in strada, ci siamo accorti che si poteva fare un lavoro di advocacy molto forte, specialmente con le persone che potevano accedere ad alcune prestazioni di tipo assistenziale. Quindi abbiamo cominciato innanzitutto a fare i documenti, ad arrivare alla residenza con alcuni di loro. E quando ci siamo accorti che c'erano dei gravi, gravi problemi di salute, soprattutto mentale, ma anche dei problemi di disabilità fisica, pian piano abbiamo, sempre seguendo il modello dell' Housing First, quindi centrando tutto sulla persona, abbiamo cominciato a stimolare la persona a immaginare un percorso diverso. Ad esempio iniziare a fare il medico di base, a fare la visita al centro di salute mentale, sempre accompagnato, mai lasciato da solo, fino ad arrivare alla commissione di invalidità dell'Inps. Appunto noi abbiamo usato la pensione di invalidità della persona come una sorta di reddito di cittadinanza, nominando un amministratore di sostegno. Inizialmente le persone hanno dovuto appoggiarsi comunque ai servizi quali la mensa, e abbiamo avuto tanta, tanta resistenza nell'ingresso in casa. A volte sono passati cinque mesi o sei mesi prima che la persona accettasse di non essere più invisibile. Questo forse è stato lo scoglio più grosso, far capire alla persona che non aveva più quello status, che non era più invisibile e che la sua vita era troppo importante. Abbiamo dovuto fare una sorta di risveglio della coscienza attiva della persona. La persona era di nuovo in gioco, aveva di nuovo in mano la sua vita, e pian piano questi percorsi hanno preso atto. Quindi praticamente uno si infersi senza finanziamenti, per sole sette persone. Speriamo chiaramente che con il buon di inclusione, speriamo di poter aumentare radicalmente il numero delle persone, anche perché, pur essendo piccola, comunque a un momento circa 500 persone senza dimora in anagrafe. Due spaccati molto diversi, due contesti diversi. Su questo avete avuto modo, proprio per avere elementi a supporto di questa vostra consapevolezza, ma anche per rendere più appropriato l'intervento, lo strumento di Paolo aiutava anche a questo, a calare il progetto dentro un contesto, dentro un'organizzazione, definire il target. Quale guadagno ha dato al vostro lavoro a poter praticare anche questo tipo di verifica? Abbiamo detto appunto che la persona è al centro, e quindi avere la possibilità di uno strumento all'ingresso della persona, che non è però solo di raccolta dati, è già una base per la progettazione. E infatti, diciamo, quella che è la domanda che ci piace di più dello strumento di Paolo è proprio quella che ci fa ragionare non soltanto sui punti di debolezza, sui fattori di rischio, ma soprattutto sui punti di forza. Quindi questa, da un lato, una raccolta dati che ci fornisce una fotografia iniziale, una fotografia che noi sappiamo che è incompleta e imperfetta, anche perché all'inizio noi non prevediamo dei colloqui molto standardizzati con la persona. E quindi per completare anche la scheda di Paolo abbiamo usato moltissimo anche le schede di segnalazione fornite dai servizi, oltre che appunto i primi colloqui. Ma appunto che ci fornisce le indicazioni di massima per fare una prima ipotesi di intervento con la persona. proprio a partire da quelli che sono le aree problematiche su cui si può lavorare e le risorse che ci sono su cui investire. E quello che ci piacerebbe è avere una restituzione di questi dati con statistiche per avere proprio un'immagine del progetto nel suo complesso e soprattutto integrare poi questo strumento con gli altri strumenti che si stanno utilizzando. Quindi Osvaldo, quindi il questionario di Santinello e l'onda del cambiamento, che invece è uno strumento dinamico. Questo sicuramente, appunto l'integrazione dei dati dei diversi strumenti sarebbe un aiuto ulteriore per la progettualità. Grazie Chiara. Scusa, tre secondi su Rossella 3.0, proprio tre secondi, è stato uno strumento molto utile di discussione all'interno dell'equip, quindi anche formativo per l'equip. E un po' i nostri punti in cui siamo più lontani dal modello noi li conosciamo bene, però è stato proprio una riunione di equip molto ricca, a partire dallo strumento, quindi formativo anche per noi dell'equip. Quindi una battuta su questo, grazie Chiara, la chiediamo anche a Matteo. Sì, sicuramente gli strumenti del dottor Molinari ci hanno spinto a fare un'analisi di realtà critica innanzitutto su noi stessi e sulla carenza di risorse del nostro territorio. non solo un'analisi su noi stessi, ma anche un'analisi sulle persone che venivano inserite da serie di problematiche che dovevamo affrontare noi e anche la persona beneficiaria del percorso Housing First. Questo ci ha dato appunto lo spunto di riflessione anche grazie al comitato scientifico dell'Università della Calabria di poter mettere insieme tutti i tasselli e spingerci comunque ad attivarci. Ecco, quindi è stato sicuramente utile. Per quanto riguarda Rossella non abbiamo avuto il piacere di conoscerla, però... Rossella, Osvaldo. Osvaldo l'abbiamo conosciuto, Osvaldo è anche molto interessante, fa una panoramica anche veloce di quello che succede della rendicontazione dei costi efficaci, dei progetti Housing First. Grazie, davvero un applauso.